La situazione che stiamo vivendo è abbastanza complicata, noi ci troviamo in un territorio come tutti sapete con grosse difficoltà occupazionali, crediamo che anche il servizio pubblico debba in qualche modo contribuire a mantenere nella città un livello occupazionale importante. La fabbrica d'armi a tutti gli effetti ormai ha una storia centenaria in questo territorio, occupa attualmente oltre 350 persone e vogliamo che questa possibilità rimanga anche nel futuro. Il fatto che lo Stato Maggiore della Difesa ci sta imponendo un taglio di circa 100 unità sulla pianta organica è una cosa che va contro questa determinazione e contro questa nostra idea di sviluppo e di occupazione della città. Per questo noi oggi siamo qui anche a sostegno dei coordinatori nazionali, delle nostre segreterie nazionali che oggi sono a Roma, di CGL e Cisluille, che stanno incontrando l'onorevole sottosegretario della difesa Domenico Rossi, a cui chiederanno di impegnarsi, come già fatto il Ministro o la Senatrice Pinotti, nel rivedere le piante organiche.